Ok, il vostro segreto è proprio là, sulla piazza, non c'è un posto più visibile in Italia, sulla piazza, che non abbiamo più canzoni, che noi facciamo una prova ogni tanto. La gente ha chiesto per noi di fare altre canzoni, quindi rifacciamo questo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti